ripetete con me sciacquo 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 e ebbene sì signori lo abbiamo troppato e benvenuti e benvenute qui ad alcan che parla come state come andiamo signori miei vi devo dare questa splendida notizia questa cosa che avevo voglia di fare da tantissimo tempo e che non arrivava mai adesso vi racconto un pochino il percorso e tutto quello che è accaduto prima di arrivare allo sciacquo signori abbiamo incominciato le nostre run di duriel all'inizio senza conoscere neanche l'utilità della cosa perché inizialmente sapevamo che droppava determinati unici ma non pensavamo che le avrebbe droppati in realtà poi così facilmente non fraintendetemi non è facile droppare lo sciacquo non è facile droppare il nonno non è facile droppare nessun altro unico ma ci sono delle probabilità aumentate con alcune tipologie di pg o perlomeno con i pg di livelli un pochino più bassi accade più spesso o soprattutto se vogliamo dire con i pg nuovi perché vi dico questo perché ho fatto degli esperimenti ho fatto dei test e devo dire che nonostante secondo me o secondo noi perché ne abbiamo parlato anche con il clan sia stata abbassata notevolmente la probabilità di droppare unici non è detto che ciò non possa accadere e delle volte accade anche quando meno ce ne se lo aspetta ieri è stata una giornata particolarmente fortuita in questo senso arriveremo anche questo iniziamo col dire che prima di arrivare a droppare lo sciacquo ho fatto 460 470 run quindi alla fine tutti i giorni nelle nostre live che vi invito sempre a seguire con dal can stream signori miei perché naturalmente siamo tutti a giocare insieme nel clan ci stiamo divertendo stiamo facendo tantissime run di duri e ci stiamo organizzando con i materiali e se volete fare anche tante run insieme a noi venite in live oggi alle 17 sarò presente siamo da lunedì al venerdì tutti i giorni alle 17 presenti ma oggi con una piccola eccezione tornando a noi ogni volta che abbiamo provato a fare duriel ho notato sempre la stessa cosa c'erano sempre delle combinazioni di cose che accadevano quando si droppava un uber unico una delle cose che accadeva molto spesso era il fatto di vederne cadere due ma non è sempre così perché è successo anche a me più volte di vedere due uber unici cadere due elmi e poi alla fine non essere quelli ma ieri qualcosa è accaduto c'è stato qualcosa di diverso ho incominciato la run chiedendo alla chat un sondaggio ho chiesto ragazzi con quale pg vorreste che droppassi e mi hanno detto tutti quanti che sarebbe stato il barbaro colui a droppare lo sciacquo sono entrato col barbarozzo avrò fatto circa una quarantina di run è arrivato a un certo punto lo sciacquo è comparso in una ranno droppato l'elmo unico un'altra hanno droppato un altro elmo unico nella terza ranno un altro elmo unico non ricordo se fosse la quarta o la quinta vi lascerò naturalmente qui e tutti i video starete già vedendo tutto quello che è accaduto ho droppato sia una una parte superiore del corpo nella protezione e sia l'elmo sono stato felicissimo ragazzi questo sciacquo è arrivato dopo tantissimo tempo dopo di dopo aver droppato la bellezza di altri se non erro 5 leggendari perché abbiamo trovato due spear perché abbiamo trovato queste due spear le abbiamo trovate perché abbiamo deciso a un certo punto di cambiare pg e portare un livello più basso ho portato la sorcerer che sto portando avanti chiaramente e la cosa che ho notato che il suo drop rate è stato incredibilmente alto appena ha iniziato forse dopo circa neanche 7 8 run ha droppato la prima spear poi dopo un'altra ventina o forse anche meno ha droppato la seconda quindi per farvi capire i pg di livello basso o i nuovi pg che stanno salendo potrebbero e dico potrebbero perché non c'è nessuna certezza matematica avere una possibilità di droppare in modo magari più facile ma non è detto che sia così perché anche con il pg che io non ho droppato inizialmente o perlomeno inizialmente ho droppato quindi il barbaro avevo droppato il volto di andariel e due selig nonostante ciò vedevo che non stava droppando più e mi stavo quasi domandando dove fossero finiti i leggendari perché dopo circa 110 run non erano usciti fuori e la mia domanda era sempre la stessa allora che devo fare devo cambiare pg cambiavo il pg non accadeva niente portavamo un livello basso la gente poteva droppare magari io non droppavo e quindi non sapevo come trovare la quadra la realtà dei fatti è che non c'è una soluzione reale è una questione di combinazioni ma delle volte può accadere una combinazione corretta al tal punto da fare uscire anche un uber quello che è successo a me ieri è che alla fine quel personaggio doveva droppare e infine ce l'ha fatta quindi noi finalmente oggi abbiamo uno sciaco in preparazione ai contenuti nuovi che arriveranno perché vi ricordo che lo sciaco non solo riduce del 20 per cento i danni subiti ma ci dà un più 4 a tutte le abilità che noi abbiamo questo ci permette di essere sia più resistenti e sia seriamente avere delle statistiche più alte perché la nostra rigenerazione oltre al fatto che lo sciaco da rigenerazione è aumentata drasticamente quindi adesso ci possiamo permettere di fare ancora più spam compulsivo delle nostre martellate il che significa milioni a go go questo è un discorso che ho fatto molto spesso in live ed è una cosa che mi piacerebbe tantissimo ovvero vorrei tanto che in diablo 4 si potessero anche comprare gli uber 11 anche ad arrivare al punto di farli pagare un miliardo perché vi dico questo perché tanta gente non ha sempre la possibilità di riuscire a farmare duriel ed avere così tante appunto probabilità di farcela poiché naturalmente i materiali che servono sono così tanti si dovrebbero fare tantissime run quindi tante persone possono rimanere anche scottate da questa cosa poiché ci si passa davvero tantissimo tempo magari a farmare e in realtà poi si fanno soltanto 3 4 5 run giornaliere e quando in realtà altre persone come magari riusciamo a fare noi perché ci organizziamo nel clan riusciamo a fare davvero tantissime tantissime run quindi quello che intendo dire è che sarebbe comodo arrivare al punto di prendere l'uber unico anche semplicemente farmando dei soldi perché vi dico questo perché può capitare di riuscire a prendere l'uber unico nel momento in cui la stagione sta per concludersi e di conseguenza sarà totalmente inutile poiché una volta che la stagione sarà finita il pg verrà contornato nell'eterno e inizierà la nuova season quindi si dovrà ritornare ulteriormente a farmare d'uriel nelle stesse condizioni potete ben capire che a certo punto potrebbe divenire davvero molto frustrante a parer mio va benissimo il fatto che possa essere droppato anche abbastanza raramente ma avrei preferito o perlomeno preferirei che si aggiungesse questo fattore un'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo è anche il fatto che restassero come già successo per via di un bug le braci nella marea infernale perché talvolta accade proprio questo arrivo nel momento sbagliato della marea infernale perché magari mi sono collegato in quel momento riesco a fare circa 200 braci 300 braci oppure 400 non riesco ad arrivare in tempo al forziere e perdo tutto quanto questo quante volte sarà accaduto ad ognuno di voi perfetto di conseguenza sarebbe bene che potessimo risparmiarle quindi poterle mettere lì in alto e lasciarle come se fossero appunto delle delle esche appunto che utilizziamo le esche del sangue io per esempio esche del sangue ne ho forse 1500 attualmente questo perché perché le ho conservate altrimenti se avessi dovuto fare soltanto durante le mare del sangue le avrei perdute e sarebbe stato davvero un peccato quindi mi piacerebbe anche questa piccola gestione dei dei materiali proprio perché tutto questo dà più possibilità alle persone di poter riuscire ad arrivare a prendere gli uber unici e poterseli godere soprattutto per i prossimi contenuti endgame che arriveranno questo è un qualcosa che mi auguro che prima o poi metteranno non c'è nessun leak non c'è nessun rumor se merito a questo ma è quello che mi farebbe piacere tanto vedere signori sono seriamente contento di questa cosa di come sia andata certo ci sono altri ragazzi nel gruppo che stanno aspettando avranno fatto 700 800 run e ancora non hanno preso lo sciaco altre persone che nella decima run o la settima run l'hanno già preso quindi non vi sto a dire che questo metodo funziona quindi il livello basso è un qualcosa che avete la certezza al 100% o perlomeno di fare lo swap quindi portare poi eventualmente il vostro livello basso perché un drop rate più alto però ragazzi vi ripeto sempre testare non costa niente io ci provo io lo faccio e poi i risultatini ogni tanto arrivano e quando arrivano ne sono davvero contento potrebbe non essere per quello potrebbe essere per quello ma siccome non lo sappiamo ehi nel dubbio fatelo perché potrebbe essere davvero utile per voi quindi per quanto mi riguarda ho finalmente raggiunto una parte degli obiettivi che mi stavo che mi ero prefissato e sono felicissimo di questo ragazzi ricordate il 5 ci sono i nuovi contenuti quindi non scordatevi questa cosa perché nel clan stiamo per fare una cosa molto molto grossa perché cercheremo di creare anche dei gruppi e cercheremo appunto di darci una mano abbiamo il gruppo discord qui sotto quindi non scordatevelo a breve arriverà anche un secondo dal clan perché signori perché siamo arrivati praticamente intorno ai 130 e quindi credo che il limite massimo sia 150 e quindi vi consiglio di sbrigarvi a entrare per far parte della prima cerchia di gruppo poi ci sarà la seconda cerchia che poi naturalmente vedremo come andare a gestire perché siamo davvero ormai tantissimi e se vogliamo fare le cose per bene dobbiamo incominciare ad organizzarci seriamente vi ricordo come sempre di seguirmi sulla piattaforma viola dal can stream venite ogni giorno dalla lunedì a venerdì alle 17 se volete giocare insieme a me e insieme al clan perché ci stiamo dando una grossissima mano e in tantissimi stanno droppando uber unici venite a vedere la live interagite con noi giocate con noi e vedrete che insomma qualcosa uscirà a parte il fatto che ci si aiuta sempre ci si diverte che la cosa più bella in assoluto secondo me per la community che si sta creando signori vi ricordo anche un'ultima cosa se volete supportare il canale c'è il link di affiliazione amazon e dato che c'è il black friday tanti di voi compreranno tantissime cose se volete appunto passare prima dal link e poi acquistare direttamente aiuterete molto il canale grazie davvero a tutti per quello che state facendo in live grazie a tutti gli abbonati grazie a tutte le persone che stanno contribuendo a far crescere questo canale e se questo video vi fosse piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale da dal can è tutto e ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live ciao